Eccoci qui, siamo al View Conference di Torino, come potete vedere questa è la View, questa è la View Conference di Torino, eccola qua, View Conference di Torino, se fossimo stati al View Conference di Milano vedremmo qui in fondo la Torre Velasca e invece siamo al View Conference di Torino. Questo è un tipico personaggio torinese, un local torinese che adesso ci illustrerà le bellezze della View Conference, prego signor torinese, tocca a lei. Non so un cazzo. No no ma dico, stai a me sentire, cazzone. Vai avanti tu, allora eccoci qui, com'è questa View Conference signor turista? Sembra New York. Non siamo noi. Allora aspetta che la rifacciamo, siamo sull'Empire State Building. No, Rockefeller. What did you say? Rockefeller. I can't understand, please, can you repeat me? Where are we? Questi bellissimi palazzi new yorkesi, mettiamoli a fuoco. Eccoli qua, siamo a New York e questo è il panorama, vedete? Ecco, là dietro, nascosto dietro la montagna, c'è l'Hudson River. What? What? Hudson? Oh, you mean Hudson River. Hudson. River. 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 Ok, benissimo. Allora ci sentiamo più tardi? Eccolo qua il nostro turista che fa le fotografie. Adesso mi vuole la giulare il phone. Eh, vabbè, tanto di magnetico. No, non è mio, caro. Ciao a tutti. Ci vuole la panorama, amici. Sai, saluta almeno il caffone. Vai. Dai! Dai, fai il bravo. Ciao.